Perchè si sente l'assenza di Zalajeta, non si conclude davanti. Calaio non può dare l'esperienza che dà Zalajeta. A me personalmente Zalajeta non piace. Un premio a fine stagione verrà anche dato a Zalajeta. Lo darei perché comunque a settembre spero sia disponibile. Lo darei anche per la sfortuna che poi ha avuto. Dipende dalle aspirazioni che ci avremo l'anno prossimo. E forse puntiamo su Calaio e riusciremo ad avere dei migliori risultati. Speriamo. Poi Marino è bravo, valuterà lui la situazione. La Vezzi è l'unico problema perché Reio lo faccia un po' troppo dietro. Spostarsi un po' più avanti con Mannini casa quasi sul tridente. Così facciamo un bell'attacco. Siamo una neopromosta, molto giovane, dobbiamo crescere. Vabbè Napoli ci ha dato delle belle soddisfazioni battendo l'Inter. Il presidente laurentista ha detto che era un progetto che avrebbe avuto lunga durata. Quindi forse è pure ora di prendere un grande acquisto. Abbiamo fatto un buon campionato, sono soddisfatto. Alla fine siamo partiti per la salvezza e continuiamo per la salvezza. Da tifoso siamo contentissimi della posizione che ho qua adesso in Napoli. L'importante è quest'anno che raggiungiamo l'obiettivo salvezza. Però l'anno prossimo bisogna comprare qualche campione. Verso una zona UEFA possibile e una salvezza sicura. Napoli farà bene con la Fiorentina perché arriverà a carico da queste due sconfitte consecutive. Di tre punti sicuramente. Penso che più di un pareggio non possa arrivare in queste condizioni. Mi aspetta una partita, un tipo quella che ha giocato contro l'Inter. Dirò un bel pronostico, penso 2-0 per il Napoli. Boscio, sicuro. Kalajo anche secondo me. Lavezzi e Amsic. Lavezzi e Cavaiolo. Lavezzi, diciamo stavolta, e anche Domizzi ci si deve un po' rifare a questo punto qua. Carnamaro, che si ha da fare perdonare un po' che le ultime partite non è stato. E Lavezzi, il po' che ci vuole un po' Non lo speriamo bene. Quanto? Una zera per il Napoli. Grazie. 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 Grazie.